Allora, dopo 12 anni all'estero, di cui 8 in California, torno in Italia per più tempo e vedo cose che manco mi ricordavo. Oggi un mio caro amico italiano che stimo tanto mi ha fatto ridere perché mentre stavamo vendendo qualcosa, o comunque spingendo un partner a collaborare, lui mi ferma e fa eh, ma noi abbiamo una dignità, tipo nel senso non puoi chiedere troppo, a me questa cosa mi ha fatto troppo ridere, perché poi lui è una delle persone che stimo di più in Italia, però è sicuramente, cioè non ha visto all'estero tanto tempo come me, e soprattutto in America, dove ho messo qui sottofondo la canzone di Rocky, non so nemmeno si sentirà perché questo è il canzone del suono, però vatti a vedere Rocky, fratello mio italiano, e ricordati che in America nessuno ragiona così, cioè non è che se tu spingi, tu chiedi, tu cerchi di vendere, perdi la tua dignità, per me, tu che ti fermi, perché io ho una dignità, se chiedo troppe volte le cose, sei tu che perdi la dignità, per me, che non vuoi vendere, non sai vendere, non si vende a prima botta, non si vende a seconda botta, dati alla mano di aziende come HubSpot, che hanno un CRM, Customer Relationship Management, che aiuta a vendere, dicono che devi toccare il cliente 478-488, io dico che lo tocchi fino a che o non vendi o ti manda a cagare, capito? Cioè, quindi, per me questo concetto è proprio diametralmente a posto e non cambierò mai, e oggi per caso mi sono messo questa maglietta Nike USA con l'aquila così, che sembra pure un attimino quasi trampiana, cosa che non sono assolutamente, però io sono diventato anche americano, anche di fatto, e se c'è una cosa che avevo già visto in America, perché ho fatto una scuola americana dai 14-15 anni, vedo questo drive, questa forza, questa positività degli americani, let's do it, come on, facciamolo, cioè raggiungiamo questo obiettivo a forza, no? che non esiste a noi, cioè che sì, in alcuni ambiti magari sportivi italiani esiste, ed è bello nel calcio, lo vedi, lo senti, ma non è ovunque, no? Non ce l'hanno tutti questa roba, questo drive, bisogna, bisogna averlo nella vita, nelle vendite, in tutto, non bisogna mollare. Naturalmente, insomma, quando tu adoperi questo tipo di mentalità in Italia, you have to take it down a notch, no? Devi scare una marcia, perché, diciamo, l'insistenza americana è pazzesca, cioè veramente tartassante, cioè per me, da italiano che stavo in America, tendevo spesso, sai, comunque a bloccare, o a unsubscribe, o mettere in spam tante di quelli mail, messaggi, ma pure sms, c'è un livello di spam, di sms, quindi lì è sicuramente un livello esagerato, d'accordo? Però, d'altra parte, qua esageriamo nel senso che, cioè, spesso andiamo una volta, chiediamo una cosa a uno, la vuoi, non la vuoi, ciao, e se ti dice no, te ne vai offeso, no? Come se, volete, quella persona ha offeso te, dicendoti di no. Non ti devi offendere, devi, scuola il processo di vendita, non è una cosa, un touch point, o prendi o non prendi o lasciare. Sì, cioè, magari funziona degli italiani, anche perché creano tutte queste immagini, magari attorno a loro, e quindi, cioè, e creano sti giochetti, però, boh, secondo me, va bene crearsi un brand per cercare di vendere subito, quello ci sta, però tirarsela, o, non innalzare, comunque nominare la dignità, o comunque poter perdere dignità, se uno ci prova più volte a fare una cosa, per me è una cosa proprio ridicola, cioè, toglietela dalla testa, amici miei italiani, non è, non perdi la tua dignità, se provi a fare una cosa, tante volte, che sia vendere un tuo prodotto o servizio, che sia provare ad applicare per un'azienda, che sia provare a fare l'imprenditore, ci dovrai provare tante volte, non perdi la tua dignità, se fallisci, fallisci, se dice, appunto, di voler denunciare, perché non ci hai provato. Lo so che l'internet è pieno di tutti questi video motivatori della ceppa, però, adesso che l'ho visto, lo volevo intanto mandare al mio amico, proprio ci tenevo di cuore, e poi lo volevo pure condividere, un po' con tutti, perché secondo me è la cosa che vedo che ci manca di più, poi per il resto ce l'abbiamo veramente tutte, e quando ce l'abbiamo, quando ce l'abbiamo, quando l'ho sentita, quella pazzia, quella voglia di vincere italiana, che abbiamo vinto, sai, anche quando vedi nello sport, agli olimpiadi, i mondiali di calcio, di FIFA, quando vinciamo con la carica italiana, io sento un legame che è la nostra antica Roma, quando noi eravamo i vincitori del mondo, di tutto il mondo, che era veramente fantastica, e dobbiamo ritrovare quello. Forza, let's go! Grazie a tutti!